Allora amici di Calciopasso, ieri colpevolmente non ho avuto tempo e modo di fare la videoanalisi di Italia-Islanda 3-0 che ci mette molto bene in classifica perché l'Irlanda che ha 13 punti ma con due partite in più rispetto agli azzurrini c'è la concreta possibilità noi che siamo a 10 di superarla in classifica e quindi metterci al primo posto nel girone detto questo secondo me l'Under 21 ha un pozzo incredibile a cui attingere ogni volta per fare un esempio ieri comunque si sono ben comportati la coppia centrale Gabbia e Ranieri nonostante sappiamo che i titolari spesso sono Bastoni e Marchizza che chiaramente hanno qualità e forza fisica maggiore ma ieri comunque la coppia centrale si è ben comportata il centrocampo come al solito molto bravi sia Carraro sia Locatelli e Maggiore che mi piace molto dello Spezia ma anche quando è entrato Zanellato del Crotone comunque ne conosciamo le caratteristiche Esposito del Chievo che è molto bravo per esempio a tirare le punizioni e poi vabbè terzetto d'attacco terzetto che poi a volte c'è pure Ken Ievi non c'era ma comunque in ogni caso Sottil non l'ha fatto rimpiangere per niente tra l'altro autore del vantaggio in scivolata con una bella azione di Cutrone sulla sinistra che entra in area mette sto pallone molto bello per Pinamonte che colpisce di testa e la palla diventa praticamente un assist per Sottil che in scivolata si dà il vantaggio poi nel secondo tempo quando è entrato Scamacca ha dato secondo me un po' più di vivacità suoi gli assist sia del 2-0 di Cutrone un assist di testa a centro area per Cutrone che non può sbagliare e poi sempre per Cutrone negli ultimi minuti nel recupero un assist di piede di Scamacca e lui col portiere in uscita praticamente gli fa un tiro destro insomma di interno e fa il 3-0 per cui ecco è una nazionale che esprime sempre del talento non so quanti di questi saranno pronti per il salto di qualità in prima squadra secondo me Cutrone può essere comunque ci può sta in una rosa per un europeo secondo me un centravanti fisico ma anche con i tempi giusti come Cutrone e anche con un'esperienza europea che quella fa molto secondo me ci può stare per gli esterni sì Sottil è bravo però siamo secondo me ben coperti da quel punto di vista anche a centrocampo siamo messi bene insomma non vedo elementi ecco forse bastoni bastoni potrebbe essere veramente un elemento di categoria superiore potrebbe essere pagari buono per l'europeo per tutti gli altri credo che non ci sarà posto a breve nella nazionale maggiore sono buonissimi giocatori però non ti ruba d'occhio quel talento che dicevo questo è pronto per la paella nazionale un saluto una buona domenica e sempre caccio paccio